In una nazione come l'Italia c'è bisogno di avere direttori per i musei che vengano da altri paesi d'Europa in un contesto italiano dove i laureati nella facoltà della quale lei è direttore dovrebbero trovare lavoro mezza giornata prima di consegnare la tesi in teoria. È una bella domanda perché il curriculum noi non possiamo saperlo come è stato costruito, come è stato articolato però la domanda è molto pertinente. Tra l'altro posso dire che all'attività di curatore deve anche corrispondere, quindi curatore di mostre, curatore di eventi deve corrispondere anche all'attività di studioso. Noi ci troviamo in una biblioteca e la biblioteca è il luogo predisposto per lo studioso quindi non tanto colui che cura questo evento spettacolarmente inteso ma colui che va a sviluppare tutta una serie di storie dal punto di vista biografico e bibliografico. Quindi io ho seri dubbi su tutto quello che è extra legato a quella che è un po' la storia dell'arte. Se lui dovesse raccontare Teo De Palma come lo racconterebbe? Ma io voglio dire sono stato contentissimo quando Teo mi ha invitato ad avere questa piccola conversazione ci siamo sentiti un po' di tempo fa perché conosco il suo lavoro da 30 anni e devo dire che mi ha sempre affascinato per questa capacità di raccontare delle cose con grande sensibilità, con grande delicatezza, con grande lasciare scorrere il tempo senza trovare scorciatoie, senza trovare effetti speciali. C'è un lavoro di intimità, un lavoro in rapporto con il materiale cartaceo quindi un lavoro di grande sensibilità, di grande ricercatezza quindi come dire mi invita a nozze perché secondo me c'è una grande saggezza in questo lavoro non c'è l'effetto speciale, non c'è il facile consenso c'è voler raccontare le cose con sostanza, non con superficialità, non con l'epidermide delle cose.